Gialu come punta? Come punta la telecamera? Chi c'ho dietro? Gialu qua mi sento già un po' meglio Andre! Andre cambiamo ma Perchè? Marchino! Portacci da primo! Cosa? Guarda quanto! Guarda tu cazzo! A gomodone! Corcuscino staglia! Guarda! Guarda perché non casca, non trovi più questo Non si stacca E' a 160 cm ci sono venuto Bene Ok Gimbi! Quando ho preso porto Qui a 160 cm tranquillo non si stacca pure dentro l'acqua è fatta apposta vai accendete i motori che aspettate che vengo io mannaggia la miseria dai un po' di gas per favore non si stacca non si stacca non si stacca oh a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.